buongiorno bambini e bambine oggi leggiamo un libro che si intitola solo per amore è un grande libro che parla di un piccolo tucano e della sua mamma questo libro l'ha fatto cartusia il testo e di sabina coloredo e le illustrazioni le ho fatte io che mi chiamo padrizia la porta adesso attenti perché comincia la storia siete pronti non ho sentito bene più forte siete pronti andiamo a cominciare c'era una volta un piccolo tucano curioso un giorno chiesa la mamma e se fosse una nuvola tu cosa saresti sarà il vento rispose la mamma per poterti spettinare e se fossi un serpente sarà il ramo con cui puoi giocare e se fossi una cascata sarà la pietra che ti fa cantare e se fossi una tigre sarei la mosca che attorno al naso ti continua a ronzare e se fossi un albero tu cosa saresti sarei la pioggia che grande ti fa diventare e se fossi una banana oh ma sarei il sole che ti fa maturare e se fossi una pantera nera sarei la notte per poterti abbracciare e se fossi la mamma tucano sarei il tuo piccolo che ha tanto sonno e vuol farsi coccolare grazie grazie